Non si tratta solo di un restauro, permettetemi di dire, si tratta di un restauro esemplare, esemplare per la qualità dello stesso, ma esemplare per quelli che sono i contenuti che noi andiamo a mostrare alla cittadinanza. Si tratta di un intervento di restauro, di messa in sicurezza, di adeguamento impiantistico, anche di consolidamento ed è nella filosofia anche del grande progetto UNESCO, vale a dire interventi di restauro e di valorizzazione, ma soprattutto di anche utilizzo poi per attività culturali, destinazione di attività culturali e di apertura alla città. E la storia della Chiesa è la storia anche della città di Napoli, perché si sono succedute tante e tali iniziative che di fatto poi hanno rappresentato un gioiello, un gioiello della nostra città. E adesso sarà a disposizione per tutte quelle necessità, anche di ordine sociale, civile, eccetera, a favore della popolazione, a favore sempre della città. Edificio di culto secentesco, orfanotrofio, conservatorio in cui si formò Giovanni Battista Pergolesi. Dopo decenni di abbandono, il complesso monumentale di Santa Maria della Colonna viene restituito alla città, grazie al restauro eseguito nell'ambito del grande progetto per la valorizzazione del Centro Storico di Napoli, Sito UNESCO. Dalla facciata su via dei tribunali agli ambienti interni, dalla corte centrale agli spazi che ospitano una sala multifunzionale ad uso pubblico, tutto è stato pensato per creare uno spazio accessibile e aperto alla comunità, prioritariamente per attività espositive e sala conferenze. Procede il grande progetto Centro Storico di Napoli, Sito UNESCO, siamo oramai al quinto intervento che è concluso, quinto intervento di restauro, altri nove cantieri sono in corso all'interno del nostro Centro Storico, altri interventi partiranno a breve. Secondo me i tempi sono stati anche rapidi, in base alla lentezza con cui abbiamo avuto il finanziamento, poi il restauro di una chiesa è un lavoro complesso, che richiede il contributo di tanti, la sorrintendenza, le istituzioni, la curia come in questo caso, ma è un altro risultato per la cultura e per il recupero della storia monumentale della nostra città. Poi mi piace pensare che questi saranno luoghi aperti, aperti alla collettività, aperti soprattutto ai giovani, e un segnale forte l'abbiamo dato anche ieri, di cui la metà dei giovani destinati al progetto appunto cosiddetto Garanzia Giovani, a cui noi diamo sempre di più però una grande valorizzazione sociale, saranno destinati proprio al patrimonio culturale della nostra città, quindi circa sessantina di giovani, che può significare una ventina di luoghi che oggi sono chiusi, luoghi storici, e saranno aperti. Quindi i giovani diventano protagonisti del riscatto di Napoli attraverso la cultura in piena sinergia con l'istituzione locale. Grazie.